Oggi abbiamo inaugurato il centro diurno La Rosa di Gerico, una struttura che è operativa dal mese di gennaio, che è rivolta ai ragazzi fragili, minore e adolescenziale. È una struttura semiresidenziale che lavora dal mattino al pomeriggio, 5 giorni alla settimana e accoglie ragazzi che sono stati segnalati dai servizi di neuropsichiatria infantile. Questo è il secondo progetto di centro diurno che abbiamo sul territorio della provincia di Cuneo, il primo ad Ogliani l'abbiamo aperto due anni fa e siccome era stato un buon successo per quanto riguarda dare delle risposte ai giovani e agli adolescenti abbiamo in collaborazione ovviamente con l'ASL Cuneo 2 di Alba Bra e col consorzio socioassistenziale Alba Langhero Ero e il comune di Bra attivato anche questa seconda risorsa di un centro qui ad Alba che serve tutto il territorio dell'ASL Cuneo 2.